Laura Zebi, schiacciatrice della SGM Graphic Consul San Mariano, ottima partita per te, 14 punti, la match winner di questa partita, di questa prima giornata. Diciamo che si poteva fare meglio, ma non solo la mia prestazione, ma quella di tutte le compagne. Credo che c'è da lavorare, ma sicuramente cresceremo anche noi, piano piano. Una Serie B1 che è cominciata con un avversario storicamente ostico per San Mariano, però oggi... Ce l'avete messa tutta per uscire nei parziali che contano? Noi siamo ancora un po' macchinose, non giochiamo fluido, non è un gioco fluido il nostro. Adesso piano piano speriamo che più lo diventi. Dov'è il fondamentale, dove pensi che avete più margini di miglioramento in questo... L'attacco, perché ancora abbiamo un po' di difficoltà nel trovare le palle, perché comunque tutte giochiamo con un nuovo palleggiatore, quindi anche lei fa fatica ad essere precisa su tutte le palle. Quindi pian piano che lavorandoci, perché tanto solo il lavoro paga, pian piano penso che ci verrà tutto. Lo spero anche. Quali sono gli obiettivi personali di Laura Zebi in questa stagione? Vincere il campionato.